Benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, io sono Fiona, ci troviamo allo stand di Lenovo per provare la nuova realtà aumentata secondo Lenovo in collaborazione con Star Wars Si chiama Star Wars Jedi Challenge, scusate per la cronaca mi hanno messo una mascherina qua che sembrava Zorro, ero bellissima dopo che mi hanno trasformata in Zorro mi hanno messo in testa questo visore per la realtà aumentata che contiene al suo interno uno smartphone, quindi realtà aumentata vuol dire che voi vedete l'ambiente circostante ma vi compariranno anche dei personaggi, un po' come funziona Pokémon Go in questo caso ho visto dei personaggi di Star Wars, un Sith, ho dovuto combattere contro un Sith grazie a questa spada laser che viene venduta insieme al visore e a questa pallina qui sulle parti basse funziona ovviamente con moto Z e la particolarità è che attraverso la spada potete combattere contro i nemici potete attaccarli ma dovete anche assolutamente difendervi è direttamente il gioco, il sistema che vi indica quando dovrete difendervi ovviamente abbiamo potuto sconfiggere solo uno dei tanti nemici che saranno presenti all'interno di questo gioco sono però curiosa di provarlo un po' più approfonditamente tra le prime impressioni posso solo dirvi che il visore è un po' pesante sulla testa però non saprei dirvi a lungo andare come potrebbe andare il tutto direi che questo video termina qui, mi raccomando seguiteci anche nei prossimi video ciao!